Siamo soddisfatti che la CGL abbia organizzato un dibattito proprio su questo tempo perché attiene a un'attività che stiamo mettendo in campo anche noi in questo periodo, cioè quello di lavorare concretamente ad un'unica grande azienda di igiene urbana della città metropolitana che metta insieme le attività di smaltimento ma soprattutto le attività dell'impiantistica della città metropolitana, il superamento della logica inquinante di discarichi e inceneritori invece con un'impiantistica compatibile con l'ambiente, con gli impianti di compostaggio, con il miglior funzionamento degli stir e soprattutto dimostrare che ci può essere igiene urbana pubblica come abbiamo dimostrato nella città di Napoli e superare anche gli orientamenti della regione Campania che invece di puntare sulla città metropolitana suddivide i territori nato andando contro la volontà legislativa della legge del Rio. Quindi noi questa battaglia la vogliamo fare insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, insieme ai sindacati.